Ciao a tutti, sono Irene di Viaggi del Genio e oggi vi porterò con me durante il mio viaggio in Andalusia. Visiteremo insieme le città più importanti dell'antico regno arabo di Al-Andalus e non ci faremo mancare sul nostro cammino le esperienze attive e sportive. Iniziamo il nostro viaggio da Malaga. La città fu fondata dai Fenici, in seguito conquistata dai Greci e dai Romani, che ci lasciano ancora oggi numerose testimonianze, come il Teatro Romano nel centro della città. A partire dall'VIII secolo d.C. fu inglobata nella regione di Al-Andalus, sotto il controllo dei Mori e divenne un importante centro economico e culturale. Uno dei luoghi più famosi di Malaga è il mercato di Atarasanas, uno splendido mercato storico che è stato costruito sui resti degli antichi cantieri navali. Il suo imponente e coloratissimo cancello d'ingresso è l'unica parte rimasta dell'edificio originale, in stile moresco. Dentro il mercato, i colori e i profumi della Malaga più autentica accolgono i visitatori. E nel nostro viaggio in Andalusia, sulle tracce della cultura, araba, non potevamo farci mancare un giro nella città di Cordoba. Cordoba fu fondata dai Romani nel III secolo a.C., ma fu proprio dopo la caduta dell'Impero Romano con gli Arabi che raggiunse il suo periodo di massimo splendore. La grande moschea di Cordoba è una delle principali espressioni dell'arte arabo-islamica in Europa. L'interno si presenta come la perfetta fusione di elementi islamici e cristiani. Con le sue 1300 colonne fu per anni la moschea più grande del mondo. Siamo a Ronda, una cittadina di origine araba arroccata sulle profonde gole di El Taco. La città è il luogo di nascita della corrida e vanta l'arena più antica della Spagna. Le maggiori eredità musulmane sono invece il borgo e i bagni arabi. Questo è il punto di arrivo delle miniere d'acqua che si trovano proprio sotto la città di Ronda ed erano molto importanti perché per secoli hanno costituito l'unico punto di approvisionamento di acqua per la città di Ronda. Le miniere sono costituite da tunnel e gallerie molto lunghe e fitti e sono state scavate dai cristiani che erano stati fatti prigionieri dagli arabi che in quel periodo dominavano Ronda e tutta l'Andalusia. Siamo nell'area naturale di Ardales e El Ciorro, a 40 minuti da Malaga. Questa zona è diventata famosa in tutta Europa grazie ad un cammino molto suggestivo, il Caminito del Rei. Il Caminito, fino ai primi anni 2000, era considerato il sentiero più pericoloso del mondo. Si tratta di una passerella lunga e stretta che si inerpica tra giganteschi canyon. Inizialmente era la via dedicata ai lavori della centrale idroelettrica della zona, poi cadde stato di abbandono e divenne un richiamo per tutti gli escursionisti più coraggiosi che osavano sfidare i limiti. Nel 2015, dopo alcuni incidenti, il cammino fu ristrutturato e messo in sicurezza. Oggi è uno degli itinerari a piedi più suggestivi di tutta la Spagna. Siamo ad Antechera, a circa 30 minuti dalla città di Malaga. Qua, nell'età del bronzo, intorno al 2500 a.C., furono costruiti dalla popolazione del luogo due importantissimi tumori funerari. Questi tumori nel 2016 sono stati dichiarati patrimonio mondiale dall'UNESCO. Quando furono scoperti, intorno al 900, proprio qua furono trovati più di 100 corpi umani, proprio a simboleggiare come questi luoghi per la popolazione locale del tempo avevano un importante valore sacrale. Grazie. Grazie. Siamo al Parque Natural El Torcal de Antechera, proprio sopra la cittadina di Antechera. Queste formazioni rocciose si sono originate durante il periodo giurassico, circa 200 milioni di anni fa. E schiammiremo sul fondale di un antico mare. E queste sono proprio delle rocce calcare che si sono formate in seguito alla sedimentazione di vari strati di animali marini. E finisce così il nostro viaggio in Andalusia. Sapevate che potete partecipare veramente ad un viaggio del genere? Riservate il vostro posto su www.viaggidelgenio.it e seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati su tutte le novità. Ciao a tutti e al prossimo viaggio! Grazie a tutti!